Mattia Casse, sicuramente sei brava a sciare, ma te la caveresti un giorno in Satisfay? Ma certo, cosa vuoi che sia? Allora, qui non c'è nessuno se non sei disnero Satisfay, eh? Adesso ti smentirò. Come te la cavi sulla rete? Ma guarda, non ho visto la mia vita mia, qui bisogna chiamare, se no per chiamare... Chiamiamo. Pronto. Ciao, ciao, sono Mattia da Satisfay Business. Ah, ciao, sì, aspetta la mia telefonata. Allora, ti salutiamo e mi raccomando, fanno buon uso e alla prossima, per qualsiasi cosa siamo qua. Ciao, grazie. Ciao. E ora il community management, dovrai rispondere a DM su Instagram, vai. Andiamo, allora, Satisfay costa? Eh, una domanda e un'affermazione. Ma si possono mettere due IBAN nello stesso profilo? Non lo so, vediamo. Devi tu. Vabbè, lascia stare, qua faccio io. Vai che ti aspetta un po' l'ultima sfida. Questa è l'ultima sfida, è la più importante. Sarai pronto? Adesso lo scopriremo. Eccoci ai risultati finali. Disegnare un status people? Beh, più o meno. Chiamata emergente? Credici di più. Community management? Ha talento, ma non si applica. Partita calcetto? Top. Ma scusate, per il curriculum dove? Allora, non lo sovi. È tutta. No l'interno Ciao